ciao ragazze e benvenute in un nuovissimo video di shopping night oggi non è proprio night night sera sera night quasi sera e nai 9 e 50 21 e 50 io sono qui e ho deciso di farvi il video shopping tutta invernale nonostante sia aprile incazzata nera perché io sono incazzata quando c'è brutto tempo anche oggi non era una bellissima giornata ma eccomi qua per farvi lo shopping night speriamo che domani ci sia bel tempo perché sono stufa di portare questi maglioni addosso non mi piacciono mi dà fastidio l'unica cosa positiva sono i miei bellissimi orecchini di barbie il trucco abbinato rosa di barbie e questa cintura corsetto di pochi soldi nera per impreziosire questo maglione qua che ormai mi ha stufato e gli stivali neri di pelle detto ciò partiamo subito perché sono tante cose interessanti ho cominciato con rosa per poi spaziare nel bianco perché la luce fa schifo quindi almeno vedete le cose le vedete meglio se sono chiare insomma bomberino xs di puma rosa rosa chiaro bellissimo tipo in raso è della puma ed è un xs è molto carino è molto carino un po' segnato in alcuni punti però ancora sfruttabile perché un raso è molto delicato però non si vede quasi neanche in ogni caso viene 2 euro e 50 ottimo affare i segnetti non so se è un xs quindi 38 40 non so se si vedono alcuni segnettini qua e là poca roba è molto carino quindi è scontato perché costano le cose di puma non poco questo invece è un bellissimo cardigan rosa barbie golfino gessatino con i bottoncini invece in ottime condizioni la taglia è una taglia media sm anche morbida credo fino a 44 possa tranquillamente andar bene 70 per cento viscosa 25 cotone e 5 per cento elastico ottimo materiale viene 6 euro questo questa meraviglia qua che potete sfruttare sia con pantaloni che con gonne che col denim con sotto delle camicine con sotto dei crop top anche con sotto nulla è una bella collana come per impreziosire questa è una felpa della my twin di twin set bellissima che è tornata in vendita non so se ve la ricorderete l'avevo già venduta non mi ricordo se l'anno scorso comunque è tornata in vendita è ancora bellissima è bianca bella over e la particolarità ed è la my twin la linea di twin set sono questi ovali con questi strass vicino alla zip e come taglia vi consiglio assolutamente una taglia media 44 anche morbida o 42 se volete portarla over viene 6 euro e 90 di my twin sempre tema primaverile come se la primavera fosse qui in realtà mamma mia domani dovrebbe essere bello speriamo questa felpina molto leggera della haven e hood taglia m quindi siamo su 42 44 è stracarina perché è bianca via la parte velata con tutto il pizzo e fiorellini manichina tre quarti e viene ragazze 3 euro e 90 quindi ottimo anche il prezzo e questa è super primaverile da mettere in primavera che fantasia che ho oggi sono di poche parole perché lo sapete sono meteopatica quindi quando piove tagliamo pure e vabbè con i jeans con degli skinni bianchi potete metterla come volete voi questa invece una blusa di zara una camicia molto leggera taglia m quindi siamo su 44 anche morbida viene due euro è fatta così leggerissima molto carina mi ringrazierete poi quando fa super caldo ed è classica camicia di bianca effetto raso poi io ieri mi sono dimenticata di farvi vedere queste due borsettine etniche che volevo troppo farvi vedere fatta gufo che sicuramente apprezzerete tantissimo quindi ve le faccio vedere ora sono due un è così anche le le gambine parliamone dietro così sono proprio quelle etniche dentro così anche capiente comunque bellissima e viene un euro e 90 una e giacca qui anche l'altra prima che mi riferiscono è questa sempre un euro e 90 e sempre con le sue gambine a tracolla cioè una roba pazzesca molto carine un euro e 90 un euro e 90 penso siano artigianali sono molto carine ci tenevo a farvele vedere che so che vi piacciono sempre queste cosine particolari andiamo avanti un altro giacchettino molto carino è xs anche questo bianco panna della north sail questo in ottime condizioni assolutamente un bellissimo giacchino vi consiglio anche qua 38 come taglia xs massimo 40 non abbondante viene 12 euro ed è della north sail in ottime condizioni un giacchettino sporty chic adatto per questo periodo primaverile bellissimo poi abbiamo un pantalone cargo questo è di obs una taglia 42 italiana sembra bello morbido per essere un 42 vi consiglio magari anche verso il 44 guardate che bello è beige cargo elastichino sul fondo e poi ha questi dettagli qua che sono da fare nel lato con la con la fibietta così stile invicta e questi cargo meravigliosi vengono 5 euro e 90 sono molto belli però io dico 42 mi sembra un 42 morbido quindi ripeto vi consiglio 44 abito lungo questa della lidl e smara taglia 38 40 anche 42 lungo 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 tutto floreale hawaiiano proprio l'estate fatta vestito è molto carino viene 2 euro guardate che bello super fresco per l'estate sandaletto basso ciabattina e via molto molto easy camicetta vintage bellissima anche questa manica corta ha una fantasia stupenda bella lunghetta la potete portare sia all'interno di cosa vita alta che anche aperta quasi di giacchina e anche lei da sola così con sotto qualche schicchi mi avvicino così la vedete una taglia media ed è stupenda col collettino così collegiale i fiorellini sul pizzo sangallo sono meravigliosi e questa qui ragazze viene 7 euro e 50 ha pure lo spaccettino laterale è un capo vintage meraviglioso più stupendo stupendo altro pantalone cargo adesso facciamo la facciamo la collezione di cargo questo è un 42 italiano color ghiaccio della pull and bear bello perché è skinny con i tasconi molto molto carino anch'io ne ho diversi così guardate che bello in ottime condizioni ha le tasche qui carino perché la medaglietta qui quindi diverso dai soliti la vita alta dietro così e viene 4 euro 90 un bel cargo è il colore neutro che va assolutamente sempre nella gamba danny rosa c'è anche questo toppettino che è un xs con questa fantasia meravigliosa sui toni del beige è un monospalla ok questo sarebbe nascosto qui lo usiamo perlomeno dopo un sacco di tempo ho capito ho capito la funzione di quelle cose lì è fatto così questa fantasia champagne col fondo così leggermente dal sapore etnico con un bel pantalone beige elegante sta molto bene e questo va portato sopra perché comunque c'è tutta la parte anche sotto particolare xs danny rose fiocchettino da fare qua viene 6 euro e 90 questo bellissimo top in ottime condizioni passiamo al vintage ho due camicie così in caso vi piacessero non si possono litigare sono sorelle praticamente non gemelle ma quasi gemelle eterozigoti praticamente perché non hanno lo stesso colore allora queste sono taglia 42 vintage 100 per cento viscosa la prima è così sono bellissime in viscosa poi sono anche un po cargo in realtà perché hanno i bottoni bellissimi ma questa è la prima che è verde un po più scuro ha i bottoncini qua con la fibbietta ed è stupenda si può allacciare fino a qua questa bella sia portata fuori che all'interno perché comunque è fatta molto tatticamente con delle pensi tattiche però è bella anche da portare all'interno di roba vita alta e viene 6 euro e 90 sua cugina praticamente uguale sui toni del verde militare taglia 42 in 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 viscosa bella anche questa sono due punte di colore leggermente diverso anche questa ha gli stessi bottoncini meravigliosi e costa sempre 6 euro e 90 me le immagino benissimo anche con dei jeans cargo dei pantaloni cargo sono una più bella dell'altra potessi scegliere il colore in base ai vostri gusti e al vostro gradimento e al vostro incarnato luciano soprani è arrivato ancora cioè insieme agli altri tailleur quest'altro tailleur col pantalone questo 100 per cento lino taglia 42 ed è mamma mia uno spettacolo ragazze costa 21 euro e 90 al tailleur non posso vendolo separato ve lo vendo insieme perché ripeto un abominio guardate che meraviglia il blazer ora non lo posso provare perché sono smaglionata quindi sarebbe un pugno nell'occhio tutto in lino taglia 42 luciano soprani forse ho detto solo soprani ma ho sbagliato c'è questo blazer lungo tutto divino ripeto meraviglioso il prezzo cioè non trovate neanche un tailleur pronto moda scrauso a questo prezzo è bellissimo anni 90 2000 wow e poi vi faccio vedere il pantalone nel prossimo video